Quali sono i segni dello Staphylococcus aureus resistente alla meticillina nei bambini? Staphylococcus aureus resistente alla meticillina è un'infezione resistente agli antibiotici causata dai batteri Staphylococcus aureus. L'infezione viene trasmessa dal contatto fisico con una persona infetta o facendo in modo che i batteri si trasformino in un taglio, una ferita o un'apertura. I bambini sono spesso suscettibili all'infezione a causa di un elevato numero di contatti casuali con altri, come a scuola o durante l'asilo. Riconoscere i sintomi dello Staphylococcus aureo resistente alla meticillina nei bambini può comportare un trattamento medico più rapido e meno complicazioni. Lo Staphylococcus aureo resistente alla meticillina nei bambini e negli adulti si presenta generalmente come un tipo di infezione della pelle. Potrebbe avere l'aspetto di protuberanze rosse o brufoli. L'infezione può comparire vicino al punto di ingresso, ad esempio sui bordi di un taglio, ma può apparire anche altrove sul corpo. Lo Staphylococcus aureo resistente alla meticillina è spesso erroneamente identificato come un ragno o una puntura d'insetto, che porta diagnosi errate. Brufoli o brufoli hanno causato il mio Staphylococcus aureus meticillino resistente. I bambini possono svilupparsi rapidamente in ascessi gravemente gonfiati. Questi possono richiedere il drenaggio e dovrebbero essere trattati da un medico piuttosto che a casa. Altri sintomi che possono indicare lo Staphylococcus aureo resistente alla meticillina comprendono brividi, febbre o problemi respiratori. Questi sono spesso indicativi di una grave infezione che può interessare il resto del corpo. I fattori di rischio per lo Staphylococcus aureo meticillino resistente nei bambini includono il contatto casuale con gli altri, i bassi standard igienici, gli alloggi affollati e le visite ospedaliere. Poiché lo Staphylococcus aureo resistente alla meticillina è trasmissibile così facilmente, gli ospedali e le unità di terapia intensiva sono spesso un sito primario in cui si possono verificare infezioni. Anche i pazienti post-operatori sono suscettibili, in quanto il loro sistema immunitario indebolito può essere meno in grado di allontanare l'infezione. I neonati possono contrare lo Staphylococcus aureo resistente alla meticillina attraverso il parto, che diventa pericoloso non solo per il bambino infetto ma per tutti gli altri tenuti nel reparto infante dell'ospedale. Nei casi gravi, lo Staphylococcus aureo resistente alla meticillina può passare da un'infezione della pelle al flusso sanguigno, interessando i polmoni, i cuori e le ossa. Poiché l'infezione è resistente a molti antibiotici, il trattamento può essere difficile e a volte può non avere successo. Sebbene il recupero sia comune, alcuni pazienti muoiono per complicazioni correlate allo Staphylococcus aureus resistenti alla meticillina. Sebbene molte infezioni cutanee siano relativamente innocue e non basate su Staphylococcus aureus resistenti alla meticillina, alcuni operatori sanitari suggeriscono di consultare un medico in caso di sviluppo di un ascesso o se i bollori compaiono in concomitanza con un'epidemia di Staphylococcus aureo resistente alla meticillina nella scuola di un bambino, asilo nido o ospedale. Un rapido esame del tessuto può garantire una diagnosi rapida, consentendo ai medici di iniziare il trattamento in una sola volta. Lo Staphylococcus aureo resistente alla meticillina nei bambini spesso si risolve senza complicazioni, sebbene possa essere necessaria un'attenta osservazione per garantire che l'infezione stia migliorando e non si diffonda dopo il trattamento. Grazie mille! Grazie a tutti.